E lo cari amici è un petto e un altro blocco del Comico K3 Posso scusare che lei sempre... No, visto che è un evento che stiamo a farlo in due Vabbè, ma cari amici il Comico K3 è fantastico, eccomi qua Oggi facciamo un video spettacolare Spettacolare, spettacolare Addirittura ci siamo quasi medesimati in due persone professionali E abbiamo fatto di tutto, abbiamo preparato cosa seguire Notare la calligrafia La mia calligrafia fa cacare Doppia telecamera per mostrarvi anche le cuffie in un'altra angolazione Quindi veramente siamo potenti Sì, perché qua c'è un'altra telecamera Sì, sì, qui c'è un'altra telecamera E' proprio in questo momento la chiamata, vada Lo slogan di oggi sarà Fattanza in abbondanza Come si dice? Ce n'è per tutti No, fattanza in abbondanza Ed è? Chi si gratta la panza? No, devi dire fattanza in abbondanza Fattanza in abbondanza Sì, ma facendo fattanza in abbondanza Fattanza in abbondanza Buona, perfetto, partiamo col video E mi gratto la panza Ok, come dicevamo prima Facciamo un video di confronto Un video di confronto Tra tre cuffie wireless Esatto Della stessa, no, beh, non della stessa marca Ma più o meno della stessa casa Sì, ormai Perché ormai Apple ha acquistato Beats Le uniche cose che ha prodotto belle quest'anno sono queste Esatto E infatti qui abbiamo le Power Beats Ragazzi che vi faccio vedere in un'altra angolazione Ok, le Power Beats Adesso seguiremo questa scaletta La spunteremo per dirvi quale comprare e quale no Perché comprarle e perché no Partiamo subito con le Power Beats E partiamo con il suono Il suono, allora il suono Il suono sostanzialmente è questo Allora, il volume maggiore che ti dà le cuffie nell'orecchio Le Power Beats Le Pro Le Pro Allora le Power Beats Power Beats Ok K, le faccio vedere Certo, il gusto Il gusto ai nostri spettatori Lei Allora, un suono deciso Ok Molto pulito Molto nitido Bassi, secchi Quindi ci sono Corposi E riempie proprio l'orecchio Quindi sentirete tutte le sfumature Non tralasciando ovviamente i bassi E queste sono le Power Beats Abbiamo le AirPod Di Apple Di Apple Che come suono e pulizia Si avvicinano molto alle Power Beats Ok Solo che sono leggermente più basse Come livello sonoro E i bassi ci sono Perché ci sono Ma sono meno marcati Meno decisi Ecco Quindi un suono meno avvolgente Direi così Un suono meno avvolgente Poi le vecchie che ho resumato Sono le Power Beats Sono le Power Beats 2 Non sono le 3 Ok Allora Come volume Queste sono allucinanti Cioè Proprio al massimo Non riuscite neanche a tenerle Perché vi spaccano i timpani a metà Ok Come pulizia del suono Si vede che sono vecchie Appunto perché il suono Mi risulta meno nitido Rispettivamente alle altre due cuffie E i bassi alzati al massimo Tendono a gracchiare un pochettino Quale consiglia? Ma io Allora Tra le 3 io prenderei le Power Le Power Beats Pro Le Power Beats Pro Le Power Beats Pro Questo ovetto Kinder nero Di cioccolato fondente Esatto Che a me personalmente Non piace molto Perché è veramente troppo grosso Diciamo che c'è un case È esageratamente grosso il case Quindi non è molto portatile Nel senso in tasca Poi se lo mettete in un borsello Ci sta la grande In uno zaino Però diciamo che Ma in tasca sta veramente male Cioè per farvi rendere conto Mi alzo un attimo in piedi Si dovrebbe vedere Guardate Queste sono dei pantaloni Della tuta della Jordan E guardate come sporge Cioè sembra che ho Sembra che ho in tasca Una tetta Esatto Io l'ho bocciato Io l'ho portato in vacanza L'ho utilizzato L'ho sfruttato E ragazzi Lo boccio a pieno Questo case Ok Passiamo invece alle Airpods Che secondo me sono Le migliori In quanto portabilità Perché ragazzi Abbiamo un case Piccolino Che dà una ricarica Le Airpods Hanno un case Piccolino Veramente portatile Lo illustri lei Che lei Ne utilizza più Sì Portatile Si può mettere dappertutto Veramente comodo Io lo perdo Talmente piccolo Che non so mai Di che cazzo sono Comunque È sorprendente Anche la durata Perché se tu conti Signor K Che le Airpods Durano 5 ore Di suono Dalle batterie Dalle due Vari auricolari E in più ci aggiungiamo Le 24 ore Di ricarica Col case Secondo me È eccezionale Poi passiamo All'ultima Che sono le Power Beats Le Power Beats Che diciamo Che come grandezza Anche loro Come potete vedere Sono grandi Però sono abbastanza Sottili Quindi diciamo che In tasca Stanno meglio Sicuramente Anche perché Hanno un case morbido Piedevole Cioè si comprime Fattanza in abbondanza Fattanza in abbondanza Quindi devo dire Mettiamo le spunte A questo punto Vince Vincono gli Airpods Le Airpods Al grande vincolo Esatto Indossabilità Ragazzi L'indossabilità È una cosa Molto soggettiva Ci sono tipi di orecchie Ci sono persone Che preferiscono Un'indossabilità Un'altra Ci sono persone Addirittura Che non sopportano Le In-ear Anche se sono In-ear Sono delle In-ear Che non danno Particolarmente fastidio Quindi Sono abbastanza Consigliabili Se uno Non sopporta Molto le In-ear Anche perché Hanno le astine Che Vi tengono bloccato L'orecchio E non cadono Ve le faccio vedere Intanto che Il comico ne parla Non cadono Quindi con questa astine qua Voi le bloccate dietro All'orecchio E non serve Che le In-ear Fino dentro Tutto il paviglione Ecco Per cui volevo dire Quindi non danno Così fastidio Cioè guardate ragazzi Vi faccio vedere Come si indossano Allora Forse indossarle Con degli occhiali Con degli occhiali Un po' difficile Perché c'è la stanghezza Esatto Però ragazzi Come potete vedere In pochi secondi Sono riuscito a metterle E anche se dovessi Squatere la testa Se avessi finire La testa in giù Queste non cadono Perché hanno Queste sono eccezionali Con questa astina qua Sono veramente L'archetto L'archetto Come Come Le Power Beats 2 Che vi avvolge L'orecchio E oltretutto È leggerissimo Quindi Esatto Alla grande Esatto E non danno fastidio Potete tenerle su Tranquillamente Perché come vi dicevo Non danno fastidio Come le In-ear Class Certo Passiamo invece All'indossabilità Delle Airpods Ragazzi Le estraiamo Dal loro ovetto Ve li faccio vedere Prego Comico Le indossi Per far vedere Ecco Ragazzi In meno di un secondo Le Airpods Sono funzionanti L'unico problema È questo Che secondo me Se uno Tu dovesse tirare Ma c'entra Comunque Anche se Dovesse provare A strappartele Queste fa così E le va Allora Diciamo che le uso Molto in palestra Quindi Vi posso dire Che C'è la possibilità Che voi abbiate Il timpano C'è il buco del timpano L'imboccatura Dell'orecchio Abbastanza grossa In quel caso lì Potrebbero cadere Perché ci sono persone Che mi hanno detto Che a loro cadono Ma Gli cadevano quelle vecchie E gli cadono anche queste Perché la forma È rimasta identica L'unica cosa Che queste rimangono ferme Quindi Cosa vuol dire Che se io metto giù A fare panca Piana E spingo Queste potrebbero Guardate ragazzi Come spinge Spinge Vai 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 Vado 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 Basta Potrebbero spostarsi Leggermente E quando si spostano Il suono cambia Perché perdete Il basso Si spostano leggermente Quindi dovete Prendere le mani E rimettere Anche perché Quello sudore Rende il dolore Che scivoloso Magari Crea Ah il gommino Che ve le Che ve le Praticamente ve le blocca Guardate come viene applicato Il gommino Esatto Queste potrebbe salvarvi Certo Questo qui veramente Anche perché Essendo in gomma Evita molto Il Esatto Il scivolamento Si blocca così Passiamo alla fine Alle power beats 2 Che secondo me Anche queste Hanno un'indossabilità Pari A questa Anche se il filo Rompe i coglioni Il filo Il filo Ragazzi Il filo È veramente scomodo Perché innanzitutto Non è corto Non è corto ragazzi Cioè sarà almeno Un metro di filo Si può comunque regolare Si può regolare Ecco L'ho staccato Si poteva regolare Eh vabbè Fa niente Si poteva regolare Ma comunque Sarà un metro di filo Anche perché Passare da orecchio A orecchio Magari c'è uno Che ha la testa Pari ad una palla Da rugby O velo pale E per fare orecchio A orecchio Cioè Non è che È come dire Non cazzo Hanno fatto uscire Lo stanno solo Vabbè Vabbè Fai due Vi posso far vedere Sono quasi Oddio Quasi Non dico che sono identiche Perché un po' la forma La forma cambia Hanno l'archetto Sembra più grosso No Sai cos'è questa Allora Queste qui Sono più lunghe Guardate ragazzi Queste sono più lunghe E hanno l'archetto È orizzontale Queste invece Sono meno lunghe Hanno l'archetto Che si posiziona In verticale Vedete Proprio questa qui È una Un aspetto estetico Che cambia abbastanza Da queste due cuffie Che però Rende comunque Le Powerbeats 2 Per chi le volesse acquistare Anche perché non costeranno Più tantissimo Delle ottime cuffie Per fare sport Assolutamente Assolutamente Come suono E come tutto Come suono E come tutto Quindi ragazzi Per quanto riguarda Il comfort L'indossabilità Io 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 mi sento di dire Che i migliori Sono le Powerbeats Pro Sì certo Sono le Powerbeats Pro Indubbiamente Esatto Indossabilità Perfetto Allora Adesso passiamo Ad un'altra Ad un'altra chicca Che è la durata Della batteria Ragazzi Durata della batteria Esatto Per quanto riguarda Le Powerbeats Pro Apple Conferma una durata Della batteria Pari a 9 ore Di ascolto E 24 ore Totali Con la cover Integrata Ovvero Se voi avete La cover Dietro Potete Metterla Caricare E potete Andare avanti Caricare Ascoltare Per 24 ore Per quanto riguarda Per quanto riguarda Le iPod Di Apple Sono 5 ore Di ascolto Musicale E 24 ore Di ricarica Con la custodia 3 ore Di ascolto Mentre quando si sta Al telefono Di conversazione Di conversazione Sì Quando si sta Al telefono Esatto Mentre invece Per quanto riguarda Le Powerbeats 2 Abbiamo Solo 12 ore Perché qua Cambia la situazione Abbiamo una batteria Che dura di più Rispettivamente alle altre Perché sono 9 5 E 12 Però non abbiamo La ricarica Non abbiamo La ricarica Adesso Quindi direi che Sulla durata a batteria Io direi Le complessive Le Powerbeats Ma Secondo me Sarve un pareggio Perché anche Le Airpods Non mi dispiaciono Perché nonostante Abbiano Il Mettiamo pari Il case Più piccolino Esatto E comunque Allora facciamo pari Tutte e due Va bene Ma io farei pari Anche all'indossabilità Perché qui È a seconda Del gusto Ma l'indossabilità Qui la perdi Qui la perdi Se fai sport estremo Se giri la testa Locemente la perdi Però uno che non fa sport estremo E non se ne prende Io metterei pari Anche qua Io non sono d'accordo Con quel pari Lì però Io metterei pari Allora Qualità prezzo Qualità prezzo Qui ragazzi C'è veramente Da piangere C'è da dire Prendete il portafoglio E preparatevi A sborsare dei soldi Perché io ricordo La qualità Si paga Non potete pretendere Di prendere cuffie Da 30 euro E aspettare Le prestazioni Che hanno queste cuffie Non potete pretenderlo Io ho provato Ve l'ho fatto vedere E fanno schifo Ricordo Le 8 tvs Andate a vedere L'unboxing Se non l'avete visto Fanno cacare E costano 30 No Costano 40 euro Quelle cuffie 39 euro Costano Cioè Non è che costano poco Quindi Andiamo Allora Come prezzi 199 euro 199 euro Su Amazon Io ho visto Queste cuffie Qui A 129 129 149 euro Quindi Secondo lei Per quanto riguarda La qualità Prezzo Probabilmente Probabilmente Io metterei pari Queste e queste qua Perché queste Se andate sul Primo modello Magari 129 euro Lo trovate Ho visto comunque Su Amazon Ci sono sempre offerte Quindi ragazzi Mi raccomando Cercate sempre Di optare Per le offerte migliori Non andarle Quindi io metterei Un pareggio Per queste due Per queste qua Purtroppo Tra virgolette Costano tanto Sono un po' Diciamo Uno sfizio Abbastanza costoso Certo Va bene ragazzi Allora Adesso abbiamo Una classifica generale Forse Forse Per spezzare Una lancia a favore Nelle power beats Però Io aggiungerei La voce Quella dell'usabilità Adesso Dite usabilità E nel senso Ma cosa Come le usi No Non è il senso Come le usi Ma ovvero Sono i tastini Che hanno Integrati Che sono integrati Nelle cuffie Perché ricordo Le power beats I tastini Li hanno Le iPods I tastini Non le Hanno Sono totalmente Sprovvisti Tastini Che non sono La galaxica Me l'ha fatto La foto Perché vive Di vita propria Esatto Ricordo Che non sono Una nota Da sottovalutare Perché Ricordo Che essendo Delle cuffie Che tenete Perennemente Sulle orecchie E quindi Il telefono Potete tenerlo Anche distante I tastini Sono Comunissimi Perché K adesso Lui più L'uso Queste Io uso Queste qua Io posso Direvi Queste qua Bisogna chiedere A Siri Siri Alzi la musica Siri Mi abbassi la musica Quindi ragazzi Secondo me Per quanto riguarda L'usabilità Le power beats Pro E le power beats Come Opinione E soggettiva Metto Come vincitore Le power beats Pro Secondo me Vincono loro Vincono le airpods Certo Perché comunque Si tratta di Si è molto Un parere soggettivo Io ho utilizzato Le power beats 3 Lui ha utilizzato Le airpods Sono pareri Differenti Ci stanno Pareggio Tutto all'onesto Quindi Vi abbiamo chiarito Un po' L'idea Su cosa Acquistare Io ragazzi Andrei sempre Sul risparmio E per adesso Se fate un uso Spartano Acquisterei Queste Esatto Queste E risparmiate Tanti soldi A correre sotto La pioggia E risparmiate Tanti soldi Se siete invece Buoni Buoni Come siamo Noi Perché noi Siamo persone Molto ricche Io andrei Sulle power beats Pro Sì Io adesso Come adesso Prenderò Anche io Le power beats Pro Quindi Anche se Io le prenderei Tutte e due A suo punto Perché Queste le uso Al fuori Dalla palestra E queste le uso In palestra Inquadrami 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 Pagate Comunque Comunque Allora Detto questo Vi salutiamo E vi diciamo Una cosa Al prossimo blog Del comico Ciao cari amici Fantastica Un'iscrizione È gradita Un like Anche E se la pensate Come noi Commentate Se no Commentate Comunque Ciao ragazzi